L'ILVA dice sì alla prosecuzione dei contratti di solidarietà per i lavoratori degli stabilimenti siderurgici del gruppo. Per l'avvio della procedura manca ormai solo il via libera del Ministero del Lavoro. L'accordo è il risultato dell'incontro avvenuto nella sede romana dell'ILVA dopo il passaggio dell'azienda in amministrazione straordinaria fra i sindacati e i tre commissari straordinari, Piero Gniudi, Corrado Carrubba e Enrico Laghi. Tavolo che era stato convocato proprio per predisporre gli ammortizzatori necessari per tutelare il lavoro e consentire ai dipendenti di affrontare l'anno più duro. Dunque si prosegue con i contratti di solidarietà con i numeri attuali, ovvero 3.553 lavoratori a fronte dei 5.000 annunciati. I commissari hanno anche garantito il pagamento degli stipendi di gennaio, confermando l'impegno a trovare le risorse per pagare i lavoratori degli appalti, creditori, lo ricordiamo, di circa 210 milioni di euro e per questo in protesta da giorni. Cresce l'attesa per la conversione in legge del decreto di dicembre che sbloccherebbe ingenti risorse per Taranto. Quanto ai fondi FinTechna, i commissari hanno riferito ai sindacati che per il via libera dai 150 milioni previsti è necessaria una modifica del decreto ILVA, modifica che potrebbe arrivare con gli emendamenti che devono essere presentati entro oggi. E sempre oggi i tre commissari saranno a Taranto per incontrare il prefetto Umberto Guidato, il sindaco Ipazzo Stefano, l'arcivescovo Filippo Santoro e i vertici locali di Confindustria, insieme probabilmente ad una delegazione di imprenditori dell'indotto. Nel pomeriggio è anche previsto un incontro fra la dirigenza del siderurgico Tarantino e i segretari provinciali di FIM, FIOM e WILM e le RSU per valutare la situazione produttiva e i carichi di lavoro. Prosegue intanto la mobilitazione dei lavoratori dell'indotto che continuano i presidi davanti alla portineria impresa dell'ILVA e al municipio.